va bene così benvenuto oggi le farò fare un po la vita dei frantogliani è il primo giorno che abbiamo appena incominciato quindi speriamo che questo porti bene bene io vi ringrazio farò da boccia oggi al al dottor roi l'esperto dell'olio e quindi con grande piacere mischieremo le mani in mezzo alle nostre olive da qua esce l'olio? Da questa macchina qua? Da questa pasta 132 e mezzo 142 e mezzo 122 e mezzo 152 e mezzo 162 e mezzo 182 e mezzo Questo va in Giappone? Questo va in Giappone Olio ro in Giappone, via! Olio ro in Giappone Bene, complimenti. Andata bene? Promosso Frantoiano. Boccia Frantoiano. Boccia Frantoiano. Grazie a voi. Siete la Ferrari delle nostre terre.